Per l'Avezzano tre punti preziosi come loro, importanti per la classifica ma fondamentali soprattutto a livello psicologico perché dopo l'ennesima rivoluzione operata in settimana non erano molti quelli che speravano nel risultato pieno e invece il mezzo miracolo c'è stato. Una mano forse l'hanno data anche gli ospiti che al quarantesimo del primo tempo hanno perso il difensore Cardoni che ha rimediato il rosso diretto per un fallo commesso in area sul più veloce Bittaye che ha fruttato ai marsicani il decisivo calcio di rigore messo a segno da Dos Santos. Scorsini rimescola le carte e manda subito in alla mischia sia Bittaye che Bianciardi con il giovane Coco che a sorpresa va in porta al posto di Gerbic. Meno di due minuti e sul calcio piazzato di Zanon Forconesi respinge lateralmente e Cisse non trova di meglio che sparare alle stelle. Fa caldo e l'insufficiente condizione atletica consiglia soprattutto a Biancoverdi di non alzare il ritmo così che nei primi 25 minuti sono i marchigiani a manovrare con maggiore fluidità. A centrocampo Donatangelo e Bianciardi cercano di affinare un'intesa che è solo all'inizio mentre all'esterno il giovanissimo Marietti soffre oltre misura gli attacchi di Zancocchia e Pampano. Al ventottesimo c'è un tiro di De Angelis dai 25 metri che Coco para a terra dopo una deviazione. Alla mezz'ora la Bonia respinge corto e Diop conclude alto in diagonale da buona posizione. Al trentottesimo infine l'episodio che poi deciderà la partita. Donatangelo verticalizza per Bittae che però sembra chiuso dai due difensori rosso-blu ma il Gambiano alla meglio nello spunto finale e Cardoni non trova di meglio che agganciarlo. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del rigore mostrando a Cardoni anche il cartellino rosso. Inutili le proteste dei marchigiani. Dagli undici metri Tossanto se non sbaglia e Lavezzano passa in vantaggio. Nella ripresa si pensa ad un Montegiorgio più propositivo anche se in inferiorità numerica ma a combinare qualcosa di buono è sempre e solo la squadra di Scorsini. Al settimo Donatangelo conclude alto di destro dai 25 metri. Al tredicesimo c'è un assolo di Cissè che riceve, controlla, si accentra alla sua maniera e va a sfiorare la traversa. Al ventisesimo ci prova Bittae ma con scarsa fortuna anche stavolta. Passiamo alla mezz'ora, assolo di Morganti che per poco non rovina la festa a Lavezzano. Nella circostanza è bravissimo Coco a respingere di piede. E per finire vi mostriamo questa conclusione dell'indomabile Cissè che però viene stoppato in angolo da un difensore. Gli ultimi minuti vedono il Montegiorgio lanciarsi all'arrembaggio ma Lavezzano stringe i denti e porta a casa la prima importantissima vittoria di questo suo campionato. E in settimana sicuramente ci saranno altre novità. Mister Scorsini, stanco ma secondo me soddisfatto stavolta? Sì, molto soddisfatto. Non avevo dubbi sulla prestazione dei ragazzi. Avevamo fatto una settimana di ottimo lavoro e ero sereno e tranquillo che la squadra aveva nelle gambe 70 minuti e in quei 70 minuti noi dovevamo provare a vincere la gara. Siamo stati bravi nel primo tempo a creare tanto. Diciamo che è chiaro che anche loro giocare con l'uomo in meno nel secondo tempo ci ha facilitato la gestione. Però queste sono partite che se non le chiudi, dove noi abbiamo avuto 3-4 grandi occasioni per chiudere la gara, poi capita l'occasione in mischia sporca dove è stato molto bravo il nostro portierino. Eravamo già in inferiorità numerica prima dell'espulsione dei cardoni perché a me mi dicono che il calcio di rigore non c'era, era assolutamente fuori dall'aria quindi se non c'è calcio di rigore la partita finisce 0-0. Mi dicono così, adesso sarebbe da rivedere, sarebbe abbastanza clamoroso anche perché poi se dai calcio di rigore c'è un cavillo sulla regola che se fai un fallo non genuino ci può essere l'espulsione. A me mi è sembrata un'azione del gioco normale, se dai calcio di rigore non puoi buttare fuori un giocatore secondo me lì per di più con un metro di giudizio come ha arbitrato l'albitro oggi perché il nostro 10 è stato martioriato dalle bastonate, è entrato in ritardo a metà campo sulle gambe e lui ha soltanto ammonito, quindi se dai un'espulsione per una trattenuta presunta che ancora dobbiamo rivedere, vuol dire che c'è due metri di giudizio ma è stata proprio la direzione arbitrale, è stata abbastanza deficitaria come sbagliano i calciatori sbagliano pure gli albitri.